Ma non è che c'è una corsa alle vaccinazioni per la meningite, non c'è nessuna epidemia di meningite. Evitare inutili allarmismi dai quali scaturiscono poi le psicosi collettive. Il professore merito Giulio Tarro, virologo di fama internazionale e candidato al premio Nobel, è intervenuto all'incontro di batito organizzato dagli studenti del liceo di Caposere sul tema la meningite, conoscerla, prevenirla. Primo Levi diceva che comprendere è impossibile, però conoscere è essenziale. Allora proprio noi studenti che siamo molto attivi partiamo dalla conoscenza come primo grado per conoscere appunto il mondo. Presente è anche il sindaco di Caposele Pasquale Farina che ha sottolineato l'importanza di queste iniziative. Io penso che sono fondamentali. Come dicevo, gli studenti a volte vedono queste manifestazioni come un modo per non fare lezioni, però poi capiscono l'importanza degli argomenti e soprattutto l'importanza di chi le presenta, in questo caso il professore Tarro, che noi sappiamo tutti essere un punto di riferimento per quanto riguarda le malattie infettive e le prevenzioni anche ai tumori. Il professor Giulio Tarro ha tenuto una vera e propria lezione magistrale sul tema, parlando anche dell'utilità dei vaccini, della ricerca, e frenando sugli allarmismi e le psicosi collettive come quella ultima sui casi di meningite. Seguire i protocolli previsti dal Ministero della Salute per quanto riguarda le vaccinazioni è il consiglio del professor Tarro. Sulla meningite, ha detto, gli ultimi dati fanno registrare addirittura una diminuzione di casi. 0,26 su 100.000 abitanti. Si parla di epidemie dai 10 casi in su. Come bisogna comportarsi? Quando bisogna preoccuparsi? Ed è il caso veramente di ricorrere al medico o all'ospedale? Torniamo in considerazione che fortunatamente, già, per così dire, addirittura prima della guerra mondiale con i sulfamilici, si poteva curare il cosiddetto portatore sano. Ovviamente con gli antibiotici è ancora più facile, diciamo, ricorrere a una somministrazione orale di un antibiotico e se uno ha contatti, indipendentemente dalla vaccinazione, con una folla per un motivo o per un altro, una metropolitana affollata, una discoteca, uno sciopero di massa, in questi casi, tutto sommato, si può anche arrivare ad avere una sterilizzazione se c'è eventualmente conoscenza che è venuto fuori, quali è il caso di meningite per queste, diciamo, situazioni di assemblaggio.